Stock di batterie esauste, rifiuti elettrici ed elettronici, ma anche oli ed estintori obsoleti, insomma rifiuti di ogni genere speciali e pericolosi. Questo quanto scoperto a Cortona dai carabinieri forestali che hanno sequestrato un centro di recupero e rottamazione e denunciato il titolare dell'attività. Il centro era già seguito dal tempo, era stato infatti constatato un flusso continuo di conferimenti di materiali metallici da parte di trasportatori che non risultavano però abilitati alla gestione di rifiuti. Il PM Laura Tadei ha così disposto l'ispezione. Questa mattina i militari assieme ai tecnici hanno trovato una situazione ancora più critica del previsto. Rifiuti di ogni genere dislocati anche in aree che non risultavano autorizzate al deposito o non in linea con le normative di sicurezza. In un settore dell'impianto era stato addirittura dato fuoco a degli scarti di immobilia per riscaldare così le cuccele cani che si trovavano all'interno dello stabilimento. Gli stessi lottami metallici e ferrosi che il centro avrebbe dovuto limitarsi a trattare risultavano in realtà massi frammisti a materiali pericolosi. I carabinieri forestali hanno così proceduto al sequestro delle aree ed ecumuli di rifiuti irregolari che dovranno essere smaltiti in modo corretto. Il titolare dell'impianto infine è stato denunciato ma continuano gli accertamenti.